Musica Fra Carlo Maria Laborde, guardiano del convento di San Giovanni Rotondo, nato a Rosario in Uruguay nel giorno dell'Immacolata. Benvenuto innanzitutto, pace e bene. Ben trovati, pace e bene. Che cos'è che porta più nel cuore della sua terra? Beh, penso i ricordi soprattutto di famiglia, dell'infanzia, dei genitori che non ci sono più, degli amici, dei compagni di scuola, tutto quel mondo che in qualche modo non esiste più perché il tempo passato e chiaramente molti non ci sono più, altri ci siamo persi di vista, però rimane ovviamente quello che si è vissuto in quegli anni dell'infanzia che ho vissuto nella mia terra, infanzia e prima giovinezza, anche giovinezza, ecco, tutto quello rimane dentro, in qualche modo ci segna profondamente. Penso che in fondo ognuno di noi è quello che frutta un po' dell'educazione, di quei valori, di tutto quello che ha ricevuto nell'infanzia, soprattutto in famiglia, quindi quello ovviamente non si cancella, è un ricordo che rimane sempre nel cuore. Partiamo dall'inizio. Io so che la prima scintilla della sua chiamata, almeno così ho letto, poi mi correggerà se sbaglio, scocca mentre studiava all'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo. In quel periodo casualmente arriva nelle sue mani la rivista Voce di Padre Pio. E che cosa succede? Sì, io ero già un po' in ricerca vocazionale, avevo scoperto così, attraverso un film che in quegli anni faceva furore, il film di Zeffirelli su San Francesco, Fratello Sole e Sole e la Luna, fu un primo impatto con San Francesco che mi affascinò e allora io cominciai così un cammino spirituale, avevo anche un padre cappuccino che mi guidava spiritualmente e diciamo che io desideravo diventare francescano essenzialmente e quindi trovai sin quegli anni una rivista di Voce di Padre Pio proprio nel convento dove io andavo a confessarmi e a fare direzione spirituale con questo padre e ovviamente vedendo quegli immagini di Frati nel santuario eccetera rimasi un po' come dire affascinato anche da questo e lo vidi come un segno ecco in qualche modo. Io scrissi una lettera a padre Gerardo di Flumeri che era il direttore di questa rivista e che era il vice postulatore della causa di Padre Pio e lui io ancora adesso mi ammiro che mi abbia risposto perché ero un uomo molto occupato che aveva mille attività ed ebbe la carità e la delicatezza di rispondermi e invitandomi eventualmente a venire e a fare un'esperienza. In quel periodo c'erano diversi stranieri qui a San Giovanni Rotondo, c'erano dei giovani che venivano dagli Stati Uniti, qualcuno dell'Olanda, di altri paesi dunque era un momento in cui si accoglievano con una certa facilità i giovani che venivano da altri paesi e mi invitò a fare questa esperienza e diciamo che per me è stata un po' la spinta, l'ultima spinta che mi diede questo incoraggiamento a seguire questa vocazione. Ovviamente sempre accompagnato da questo direttore spirituale che mi sosteneva le scelte nelle decisioni che dovevo prendere. Che cosa la affascinava di più, che cosa l'ha affascinata di più della figura di Padre Pio e perché poi ha deciso appunto di vestire l'abito cappuccino? Beh Padre Pio diciamo io l'ho conosciuto tramite una signorina anziana che andò in Uruguay a parlare di Padre Pio e lei disse negli anni 71 così, lei disse e lei era figlia spirituale di Padre Pio e aveva una libreria qui si chiamava Elsa Bertuetti che non l'ho mai incontrata di per sé e lei disse che aveva ricevuto da Padre Pio questa missione di andare in Uruguay a parlare del suo messaggio e del suo insegnamento e lei andò dai fratelli, tenne diverse conferenze in alcuni giorni e io ne ascoltai le registrazioni e rimasi molto affascinato dalla figura di Padre Pio. Poi trovai questa rivista e quindi lì è nato un po' questo amore per Padre Pio anche diciamo San Francesco e Padre Pio ovviamente. Lei ha accolto appunto l'episodio di questa rivista come un segno, allora la domanda che vorrei farle è come si fa a riconoscere i segni? Beh i segni certo non è sempre semplice, alle volte ci possiamo anche sbagliare ovviamente, però io avevo la fortuna in quel momento di avere anche questo Padre spirituale col quale mi confrontavo, quindi non era così un'idea mia ma mi confrontavo con lui e quindi ho avuto anche il sostegno suo nel leggere un po' questi segni e nel interpretarli nel modo diciamo corretto, quindi credo che non è sempre facile ovviamente, io credo che quando si prendono queste decisioni così importanti che investono tutta la vita è necessario avere il sostegno di qualcuno che ci conosce e che ci può dire guarda che è questo che tu, il Signore ti chiede oppure no, è una tua fantasia ecco perché altrimenti noi potremmo anche in qualche modo sbagliarci ecco. Lei è stato ordinato sacerdote da Giovanni Paolo II, che ricordo ha di quella giornata? Beh fu una giornata evidentemente meravigliosa, uno dei ricordi più belli della mia vita ovviamente, il 21 giugno 1987 eravamo 55 ordinandi di diversi paesi, diverse nazioni, di diversi ordini religiosi, io ero l'unico francescano, io ovviamente un ricordo bellissimo perché Giovanni Paolo II tra l'altro era nel pieno della sua attività, era un uomo ancora giovane, pieno di energia e quindi è stato veramente un'emozione molto grande, un ricordo che ancora rimane indelebile e quindi considero che è una delle grazie più grandi poi sapere di essere stato ordinato da un santo oltre che da un successore di San Pietro e piccario di Cristo evidentemente è un ricordo che rimane nel cuore in un modo incredibile. Lei è stato scelto da Papa Francesco nel giubileo straordinario della misericordia tra appunto i missionari della misericordia, carica che poi l'è stata anche riconfermata successivamente, che cosa significa essere missionario della misericordia? Il Papa Francesco ha voluto nell'anno della misericordia mandare in tutta la Chiesa questi missionari, quasi un segno che la Chiesa andava incontro ai peccatori per aiutarli a intraprendere un cammino di ritorno soprattutto di più lontane, a quelli che vivevano in situazioni di peccato in modo particolare. Quindi tra questi missionari, ma non per merito perché così sono stato disegnato insieme a qualche altro confratello siamo stati indicati, quindi è un dono molto grande anche quello perché ovviamente il ministero della penitenza, della confessione fa parte del sacerdozio, anzi una delle colonne direi del ministero sacerdotale, l'Eucarestia e il sacramento della penitenza e come missionario straordinario della misericordia si hanno delle facoltà di assolvere alcuni peccati di particolare gravità che i sacerdoti in genere non hanno la facoltà, cioè che sono dati alla Santa Sede, insomma, quindi peccati particolarmente gravi. E allora ecco, avere questa possibilità proprio per rendere più facile l'accesso alla misericordia di Dio è stata la volontà del Papa e quindi ovviamente è una grande responsabilità, ovviamente non sempre ho avuto la possibilità di incontrare persone che avevano bisogno specifico di questa soluzione ma in qualche caso l'ho avuto ed è una grande soddisfazione quando un peccatore comunque ecco viene agevolato nel cammino del ritorno a Dio, quindi del perdone, la misericordia senza dover fare diciamo ulteriori passi magari che sarebbero forse impossibili fare ecco perché non è facile ricorrere la Santa Sede, invece è più facile con un sacerdote che ha avuto questa facoltà ecco, quindi è un'esperienza molto bella, molto bella che è stata riconfermata dopo l'anno della misericordia perché il Papa ha voluto insomma che questo ministero, questa misericordia non finisse con l'anno ma fosse accessibile ancora oltre diciamo quell'anno particolare della misericordia. Ecco noi abbiamo vissuto questo giubileo straordinario della misericordia voluto appunto da Papa Francesco e l'abbiamo vissuto poi tra l'altro in una maniera anche molto coinvolgente e molto diretta perché proprio Padre Pio insieme a St. Leopoldo Mandic sono stati appunto indicati come testimoni della misericordia. In quell'anno la parola misericordia è stata pronunciata credo tantissime volte, ecco è importante però mantenerla questa attenzione sulla misericordia. Ovviamente l'anno della misericordia è stato quasi uno scossone per la Chiesa e per l'umanità ma la misericordia come ricorda il Papa è una delle prerogative più importanti di Dio quindi non finisce ovviamente con un anno ma la Chiesa continua ad essere madre sollecita dei suoi figli e anche dei figli che hanno sbagliato, che hanno peccato gravemente o che si trovano in situazioni di peccato per aiutarli diciamo, per recuperarli, per aiutarli a rifare questo cammino di ritorno nella casa del Padre, come del resto la parabola del figlio del prodigo ci insegna. Quindi la misericordia non ha limiti, non ha confini, non ha diciamo così non si riduce ovviamente un anno ma è un'espressione, una caratteristica è di Dio e ovviamente anche della Chiesa che deve continuare la missione di Cristo sulla terra. La fede va anche coltivata, Fra Carlo, è anche un esercizio? La fede è un dono evidentemente che noi riceviamo ma è come una pianticella che noi dobbiamo coltivare, dobbiamo innaffiare, dobbiamo concimare con la preghiera, con l'esercizio chiaro. È vero che la fede è un dono e che noi dobbiamo chiedere al Signore come gli apostoli del resto, il Signore aumenta la nostra fede, però è anche vero che la fede va accolta è un dono ma è una responsabilità che richiede anche l'impegno personale per crescere la fede. Quindi evidentemente va coltivata con cura, con amore, la preghiera, l'esercizio delle virtù, ecco tutto questo ci aiuta, la parola di Dio, tutto questo evidentemente è un po' come l'acqua perché innaffia la fede. Quando qualcuno da me viene e mi dice padre non mi hai confesso da vent'anni e dico ma senti tu sei come uno a cui è stato affidato un terreno perché tu lo coltivasse, tu lo hai lasciato incolto per vent'anni, diventa una foresta, non riesci nemmeno a entrare perché ci sono le erbacce, tu dovevi invece zappare la terra, concimarla, innaffiarla, coltivare quelle piante che ci sono state affidate, tu hai lasciato diciamo così, l'abbandona, l'incuria, quel terreno. Un po' avviene quando noi non ci curiamo proprio del dono del battesimo che abbiamo ricevuto, dell'educazione cristiana che abbiamo ricevuto nell'infanzia e poi abbandoniamo tutto questo e seguiamo altre diciamo altre vie, un po' trascuriamo evidentemente, la fede si rattrapisce diciamo così. Andiamo un po' indietro nei mesi e arriviamo al giorno della visita di Papa Francesco qui a San Giovanni Rotondo. Lei ha strappato un sorriso al Santo Padre appunto nel giorno della sua visita donandogli il mate da buon vicino di casa. Sì, allora quando lui è entrato in Santa Maria delle Grazie i frati eravamo tutti lì in fila e lui ci ha salutato uno per uno, ha fatto qualche battuta scherzosa, ha chiesto un po' di informazioni di ciascuno e quando è arrivato in fondo alla chiesa vicino all'altare il presbiterio c'era lì il corpo di Padre Pio e lui si è soffermato a venerarlo, ha deposto una stola che lui portava sull'urna di Padre Pio che è tuttora lì sull'urna come segno ricordo di questa visita e poi si è avvicinato, c'era un tavolo dove noi avevamo allestito un po' di suppellettile per la chiesa, cioè dei calici, delle patene, altri oggetti religiosi perché lui potesse regalare alle chiese più poveri quando fa i suoi viaggi apostolici e quindi avevamo spiegato tutto questo. Io avevo appoggiato lì anche questo famoso mate perché io ero stato in Uruguay un mese prima circa e avevo pensato che il Papa probabilmente sarebbe gradito, so che lui beve questa vevanda che è una specie di tisana, è un po' eccitante come il caffè in Italia, dove si va si beve un po' il caffè, lì si usa molto questa vevanda e so mi risulta che lui la beva con il suo segretario, almeno così dicono, dopo la colazione ecco che lui beve un po' di questo. Allora io avevo portato questo strumento che era un astuccio in pelle, molto bello, molto raffinato, dentro c'era un termos anche il ricoperto di foderato e di pelle, poi c'era il mate anche in pelle con la bombiglia che sarebbe la cannuccia in argento e poi dei pacchi di questo prodotto, di questa erba. Allora quando lui si è avvicinato gli avevano spiegato il fatto dei calici, delle patene e poi gli ho detto sua santità, dico io le ho portato questo il mate e lui mi ha detto e la prima cosa che ho visto è questa. E poi io le ho detto so che agli argentini non piace tanto perché ci sono differenze con questa erba tra argentina e uruguay e loro usano una che ha più dei paletti di piccoli pezzetti di legno quasi che a noi non piace, cioè a noi, a me non piace, ma l'uruguay non piace e viceversa. Allora io ho detto io so che le argentine non piace, questa è dell'uruguay, gli ho detto no non ti preoccupare perché dice dura di più, cioè perché si beve più volte senza cambiarla, mentre quell'argentina magari ha una durata più breve e quindi lui è stato molto contento e poi tra l'altro quando andava via dopo la mesa che ormai era salito sul papamobile che si dirigeva verso l'aeroporto, lui mi fece un cenno così e mi disse grazie del mate, grazie del mate. E' rimasto davvero colpito, piacevolmente colpito da questo. E' stato un altro episodio molto bello quando gli è stato detto che c'era un vescovo ammalato nella nostra infermeria, il monsignor Santucci che purtroppo è deceduto adesso ultimamente, in quel momento era al proprio a letto e lui ha chiesto ma è lontana questa infermeria? No, no è qui, bisogna fare un po' di passi. Dice andiamo a vederlo. Allora hanno chiesto a me essendo il guardiano di accompagnarlo, quindi abbiamo fatto tutto il tragitto, ha preso l'ascensore, fatto dei corridoi e siamo arrivati alla stanza. Monsignor Santucci quando l'ha visto non poteva credere che ci fosse il Papa nella sua cella, quindi lo benedisse e Monsignor Santucci gli disse che pregava per lui, che offriva le sue sofferenze per il suo delicato ministero, il Papa lo ringraziò eccetera. E poi trovandoci nei pressi gli facemmo la proposta di andare nella cella di Padre Pio che non era prevista inizialmente, lui accettò volentieri. Quindi andammo nella cella numero uno, entrò, lui è stato lì un po' a pregare e poi a un certo punto mi fa bruciapelo, mi pone questa domanda che mi prese un po' di sorpresa. Sì, non ero preparato, mi disse ma Padre Pio è morto di vecchiaia? Allora gli ho detto sua santità, beh sì, dicevo avevo 81 anni. Allora lui mi ha detto allora no, dice perché io ho 81 anni, non sono vecchio, quindi non è morto di vecchiaia. Insomma è stata un'esperienza molto simpatica. Poi parlammo anche di Monsignor Castoro e gli dissi sua santità, noi abbiamo un vescovo che è amato da tutto il mondo, da tutta la gente, un vescovo che sta a soffrire. E lui mi disse, eh ma sta soffrendo tanto, mi disse queste parole. È stato molto commovente. È stato davvero un bel regalo la visita del Santo Padre per tutta la comunità. Parlavamo di Argentina e di Uruguay perché anche lei appunto come Papa Francesco viene da sud del mondo, come segretario dei gruppi di preghiera ha girato davvero tantissimi posti nel mondo. Secondo lei l'Occidente ha perso o sta perdendo qualcosa da un punto di vista di testimonianza di vita cristiana che invece negli altri paesi lei ritrova? Sì, beh è chiaro che soprattutto l'Europa, il Nord Europa, il Nord America, questi paesi più cosiddetti evoluti, è solo una fase quasi di post cristianesimo si dice, no? Quindi in qualche modo si è un po' abbandonato le radici cristiane, anzi ci si vergogna di dire che siamo cristiani. Sappiamo quanta battaglia fece Giovanni Paolo II perché fosse inserita nella Costituzione europea un accenno alle radici giudeo-cristiane e non ci riuscì, nonostante tutte le sue interventi e richieste non c'è stato verso perché si vuole rinnegare proprio queste radici. È evidente che l'Occidente vive questa fase in cui abbiamo rinnegato le radici cristiane in nome di un'accoglienza così dell'altro ma abdicando dalle nostre radici, questo che è sbagliato perché noi possiamo accogliere altri con rispetto, con piena libertà per loro ma senza rinnegare le nostre radici, invece si è voluto così perdere la propria identità per accogliere in un modo indiscriminato chi viene da altri paesi che magari non ha la stessa cultura. Purtroppo sì, mentre in altri paesi noi constatiamo che ancora è molto forte il valore della famiglia, il valore della fede. Io sono stato di recente nelle Filippine dove è un paese lontanissimo da qui, 18 ore di volo per poter arrivarci e dove c'è una fede molto viva, dove la gente ti chiede in continuazione la benedizione anche per le strade e dove il sacerdote è venerato e dove c'è una fede molto profonda ancora ed è l'unico paese cristiano cattolico in un contesto che non è cristiano. A volte sembra che paradossalmente la testimonianza della fede cristiana sia più forte proprio lì dove magari anche maggiormente osteggiata o perseguitata. Sì, o dove non c'è quel benessere così diffuso come magari in Europa, in paesi più poveri la gente rimane ancora attaccata alla fede, quando poi il consumismo, il benessere che importa irrimedievilmente alla durezza del cuore, ai miti, al mito, agli idoli del benessere, della ricchezza, del potere che ovviamente chiudono le porte a Dio, quindi è quello che noi vediamo purtroppo nell'Occidente. Viviamo in tempi particolari, la sensazione è che si stia esasperando un clima di violenza, di aggressività, si coltivino anche le paure, si faccia leva anche sulle paure per generare poi questa cultura della diffidenza, dello scontro, dell'odio, del sospetto. Noi come cristiani siamo chiamati oggi ancora di più a dare la nostra testimonianza e come? Ma certo, viviamo in un clima sì che non è, perché la società purtroppo dobbiamo dire ha abbandonato le radici cristiane, anche non solo in modo teorico, ideologico perché le abbiamo rinnegate, ma anche nel livello pratico, se noi vediamo le leggi che sono approvate, sono in aperto contrasto con il valore del Vangelo, la cultura di morte di cui oggi si parla tanto è che è una realtà e quindi è ovvio che tutto questo lasciando da parte Dio, mettendo Dio da parte, ecco esce fuori un po' il peggio dell'uomo, quindi la violenza, la diffidenza, il razzismo anche, questo rifiuto dell'altro perché è diverso da me, eccetera, così via. Noi come cristiani siamo chiamati a essere fautori di pace, di concordia, di dialogo, senza rinnegare le nostre radici, questo è importante, perché è assurdo quello che si sente quando arriva Natale e tutti sappiamo. Che non si possono fare i presepi, questo significa rinnegare le nostre radici, nessuno ce lo chiede, nessuno ce lo chiede questo, nemmeno i musulmani ci chiedono di levare il presepi, è una nostra iniziativa di alcuni cosiddetti presidi, ma che non si giustifica perché fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura, chi viene qui vive anche questa realtà con molta serenità, ecco, anche se magari professa un'altra religione. Quindi credo che noi dobbiamo essere, senza rinnegare le nostre radici, anzi attraverso la testimonianza della carità, del servizio, dell'accoglienza, il nostro appoggio alla cultura, alla vita, noi siamo chiamati a rendere testimonianza in questo contesto che è ridiventato pagano, un po' come i primi cristiani, quando noi leggiamo le lettere di San Paolo possiamo accostarle a quello che è la realtà odierna, perché Paolo parlava dei cristiani, delle comunità che vivevano in un contesto pagano, dove c'era corruzione, dove c'era, diciamo, anche dal punto di vista morale immoralità, eccetera, e i cristiani in quel contesto dovevano testimoniare la loro fede in Cristo, per noi è lo stesso, perché oggi viviamo in pieno paganesimo e quindi dobbiamo anche noi, anche leggendo le lettere di San Paolo, mettere in pratica ciò che l'Apostolo ci è sorto a fare, perché siamo tornati purtroppo a quella realtà, ecco, e quindi noi, ma penso che oggi la testimonianza più valida è quella del servizio, dell'amore, dell'accoglienza, del perdono verso gli altri, in una società violenta, una società che sottolinea le differenze, le paure, diffidenze, ecco, essere fautori di pace, di accoglienza, di servizio all'altro, credo che sia la migliore testimonianza che noi possiamo rendere a Cristo e al Vangelo, è quello che diceva il grande Papa Paolo VI, no, che oggi la società è più pronta ad ascoltare i testimoni che i maestri e quindi se testimoniamo questo è un linguaggio più efficace e più eloquente, ecco, delle stesse parole, ecco. Grazie Fra Carlo, grazie per aver risposto alle nostre domande. Ciao, un piacere.